Amici di Android Blog, è la fotocamera di E-Core Pike 7 3G che sta girando questo video e andiamo subito a provare un controluce torniamo a luci più normali come al solito proviamo a camminare un po' per vedere la stabilità del video fuoco fisso per questa fotocamera da 2 megapixel come potete vedere non c'è l'adattamento al fuoco riproviamo, avviciniamoci ancora e spostiamoci ok? piccolo movimento verso sinistra e verso destra tentiamo uno zoom a questa risoluzione massima fino a 4x zoom ovviamente digitale risoluzione del video a 1080p quindi full HD per questo video ripeto è girato da E-Core Pike 7 3G grazie a tutti grazie a tutti